che cos'è puipo? si si non lo so se c'è il rimpasso se non hai il rimpasso che fai? lo buttiamo di nuovo va bene tira ne sussiamo con lo scuro la mattina e tornavo con lo giorno l'endomani a mezzo a mare ne stuccavo la catina per poter paragnare a pizzi i pani e non c'è freddo, non c'è tuss, non c'è freddo, non c'è malattia o i autocateni c'è una buona, c'è gli ucini, il tempo è buono, tutta a mare, chi l'uca ne vede bene certe volte ne faremo manca stare a città che dura fino a punta dei capiti ma abbiamo una famiglia su mei spagni, perciò stringiamo i rienti e pensiamo ai vicinini i mari gli danni assai e ne fanno campare e proprio a picchissimo ne avevamo già a rispettare e per quanto non si avarca mai una pittona a noi che cosa? puoi imparare il fatto indigionale, puoi imparare le cose accattate ma lo consiglio che ci puoi dare a tutti? no, che se sono cose segreste di un mare o poi se non c'è chi hanno? no, che non c'è il primo anno qui, se non c'è chi hanno siamo sicuri che non ci possiamo insegnare niente manca un po' e ci saranno che sia perchè hanno? no, non c'è il scaricatore ahahahahahha che ce ne è la ma...ちょっと ma dove sono tutti i questo? ne gli affamici? no facesse vedere a tutti gli spettatori eh.. poi vediamo questa cosa no, prima, ora vediamo non c'è nell'acqua non c'è nessuno vai a vicino a chi riesco ah.. c'è il quante popis sono? Quattro! Quattro! Aspetta, aspetta, va vicino, va vicino Ah, questo sono tutti i pepe che ha picchiato il suo caimero E io non ne ho picchiato Questo è che sta andando a mare Un altro po' ancora acqua, questo tipo Se è nata, a chi le diamo questi polpi? No!